Facciamo un discorso dalla scala, dal balcone e voi... Il discorso dal balcone potrebbe essere frainteso. Ci sono i cittadini qualunque che ti seguono, non solo i media. Bella che c'è io. Grande! Vai Matteo, ti ho vinto a te. Grande! Stop! C'è la Ruspa! C'è la Ruspa! C'è la Ruspa! Brugherio, vieni amico mio! Poi ti aspetta, abbiamo lo stesso problema. Che del PD, lo sapevo. Visto che sono in lista di Dio. Vai, vai. Però non si vede il trattore, giriamoci. Aspetta che mi metti qua. Visto che sai cosa sei. Vai sul trattore. Aspetta che la mia telecamera. Grazie. Che cosa è artista. Oh ragazzi. Il prossimo Presidente del Consiglio deve saper guidare la Ruspa. Ecco la Ruspa. Ecco la Ruspa. Eccolo la Ruspa. Il trattore. Il trattore, deve saper guidare il trattore. Il prossimo Presidente del Consiglio deve saper guidare il trattore. Il Ministro dell'Agricoltura dovrà guidare il trattore. Vieni in città. Mi piacerebbe fare il Ministro dell'Agricoltura. Dov'è? Lui? È lui. Guarda lì. Scusami. La foto di Giorgio ce l'hai con nessuno. Aspetta, aspetta. No, stai su. Sudri a morì. No, attacca e fa nota. Sei brutta messa. Vai. Vieni giù. È un predellino praticamente. È un predellone. Massimo. Che che te la fa? Qualcuno mi fa già la foto. Sto sudando con Calamaro. Buona, eh? Buona. Il fisico non è un grazie. Mi vedi giù. Ciao, Matteo. Grazie, caro. Buon lavoro. 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 Buon lavoro.